Presidente Emiliano, Presidente, dice di essere vicino a Taranto, le liste di attesa a Taranto, Taranto dovrebbe avere un canale privilegiato. Risponda, risponda. Tu cosa fai? Scaldi la sedia? Questo è il governatore Emiliano, governatore di Puglia. Onorevole Boccia, onorevole Boccia, non scappi. Scusi, i giornalisti li fa passare? I giornalisti, filma il poliziotto, filma. Perché poi andiamo da quest'ora a parlare di quello che sta succedendo. Lucio, da Presidente del Consiglio Comunale, i giornalisti devono passare, fai passare i giornalisti. Avvisa cortesemente le forze dell'ordine di far passare i giornalisti. Vi mando in televisione, io malgrado, state impedendo ai giornalisti di parlare. State impedendo ai giornalisti di parlare. Si sta impedendo, non è vero, fate passare i giornalisti. Fate passare i giornalisti. Come devo fare? C'è un cordone di polizia. Questa è la democrazia a Taranto. Anche le forze dell'ordine sono responsabili, la Polizia di Stato. Massimo rispetto state impedendo di far passare i giornalisti. Riprendi anche le forze dell'ordine. Devono passare tutti, devono passare tutti. O tutti o nessuno. Sindaco, non scappi. Sindaco, risponda. Risponda, sindaco, non scappi. Se ne scappa, questo è il sindaco di Taranto che scappa. Non scappare. I giornalisti devono passare. Lui ha lavorato meglio. Questione Ilva. Questione Ilva. Io ho fatto un'ordinanza. Lei era vicino ai Mittal. Guardi le foto. Le guardi. Dovevi fare un'ordinanza per ogni sforamento. Rispondi. Rispondi. Fate vedere queste foto. Fate vedere queste foto. Tanto stiamo filmando tutto. Tanto stiamo filmando tutto. Dovete far parlare. Dovete far parlare. Questa è violenza. Non stanno buttando a terra. Vergogna. Questa è la democrazia. Questa è la democrazia. Fate parlare i giornalisti. State calpestando la democrazia. Sindaco, non scappi. I cittadini vogliono risposte. Perché se no ti manderanno a casa. Questo è un sindaco che scappa. Guardate. Guardate. La democrazia. Rispondi sull'Ilva. Rispondi. Rispondi ai malati di cancro. Rispondi alle associazioni che non hai ricevuto. Ai genitori tarantini. Tarantini. Si impedisce un giornalista di parlare. Riprendete. 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 Stai fermo per cortesia. Rispondi. Non scappare. Non scappare. Il sindaco di Taranto che scappa. Quello che dice di essere amato dai tarantini. Questa è Taranto. Questo è il tanto amato sindaco che dice di essere amato. E poi scappa sottraendosi a domande civili e democratiche sulla grande industria. Riflettete cittadini quando andrete a votare. Riflettete. Riflettete. Grazie a tutti